Ciao ragazzi, oggi video importantissimo per le cose che devo dirvi e è un video cruciale anche per il messaggio che porta, a parte le pagelle bisogna fare primo discorso su Inzaghi e spero che venga vistissimo, spero che lo condividiate e poi voglio sentire anche i vostri pareri quindi li leggerò nei commenti e soprattutto poi tra l'altro stasera c'è anche la live su Twitch aperta agli abbonati, quelli che fanno l'abbonamento al canale sia su Twitch che su Youtube avranno accesso e potranno, chi di voi insomma è supporto al canale può dire la propria, potremo fare un po' di confronto magari anche su questo video, su questi temi che oggi affrontiamo o in generale sull'Inter. Allora ragazzi, cose importantissime, primo punto, ieri abbiamo visto l'Inter e questa è un po' una riflessione che ho fatto e che da subito dopo la partita, abbiamo visto l'Inter con la frustrazione in realtà, date le ultime partite del Milan, almeno chi le ha viste io sì, quindi da rosicamento puro, dati gli errori degli avversari del Milan e punti un po' regalati, questo ci condiziona l'umore ed è normalissimo, siamo alla fine della stagione, ci si gioca tanto, si ha la speranza comunque fino all'ultimo, io sono tra quelli che fino all'ultimo, fino a che la matematica non ci condanna, la speranza ce l'ho sempre, poi che io dica che l'anno del Milan e tutte queste cose qui, ragazzi c'è un guffaggio atomico in atto, cioè interstellare, se qualcuno non l'ha capito, ecco glielo spiego un po' meglio, pensate che uno come me molli prima della fine? Cioè veramente? Dai, su! Cosa importante, dicevo, ecco questa è una cosa rilevante, comunque abbiamo uno stato d'animo di tensione, di frustrazione, questa cosa ci fa scattare un po' ogni tanto. Cosa importante, la seconda cosa importante da dire è che ieri sono stato puntiglioso con Inzaghi nel video post partita e voglio però specificare meglio questa cosa. Sono stato puntiglioso e sono puntiglioso con Inzaghi negli ultimi mesi perché vorrei tanto in realtà che vincesse tutto quello che è vincibile e smerdasse chi ci ha abbandonati. Quindi legacy, vigliacco e piangina, ok? Questo è il vero motivo per cui sono attento a tutto e non voglio che si sbagli nulla, sono al limite del pretenzioso, no? Al limite del super esigente. Ma in realtà perché tifo per questa Inter, per questo tecnico, per questo gruppo e quindi vorrei che tutto fosse perfetto. Quindi è il contrario di altre sensazioni invece negative, no? Non faccio passare nulla perché si meriterebbe il successo. Questo gruppo che è rimasto all'Inter, questo tecnico, questo staff, ammiro come ha fatto a giocare l'Inter quest'anno, senza mai rompere le palle, perdonate il termine, alla società, ai tifosi, per il mercato e altre cose. Quindi questa è una cosa che noi ormai ci siamo un po' a sue fatti, siamo abituati, ma pensateci, l'anno scorso, l'altro anno e l'anno prima anche da spalleggia. Insomma, Inzaghi è veramente esemplare sotto questo punto di vista e quindi vorrei veramente che vincesse. Quindi quando si perde una partita o si fa un po' fatica o si vedono gli avversari che vanno un po' avanti, ecco, mi incazzo in maniera enorme, chiaramente con noi, per gli errori eccetera, ma anche perché vorrei vincere, no? Se lo merita questo gruppo. Ecco, per concludere, non tutte le critiche sono uguali. Il fatto che io faccia delle critiche, appunto, non vuol dire che sono contro questa Inter e chi mi segue da mo' lo sa benissimo in realtà. Infatti la fortuna è che ho una grande community e proprio grande a livello, non numerico, ma proprio di qualità. Grandi persone siete e la maggior parte di voi queste cose le conosce, anzi le riconosce. Cioè che tutte le critiche non sono uguali, c'è differenza tra i trafazzisti che non hanno mai creduto in questa rosa, in questo gruppo, in questo mister e invece chi ha ambizioni, quindi fa critiche perché ha ambizioni, proprio perché riconosce il valore di questo gruppo, riconosce il lavoro di questo mister e il loro merito. E quindi le ambizioni, le aspettative, le ambizioni in questo caso, ti portano a non far passare nulla. E anche se hai delle simpatie per questo gruppo, per questo mister, non è detto che allora va tutto bene e sei sventoli rose, no? Ci possono essere, anzi, delle critiche quasi perché ci tieni di più rispetto a quello prima. E quindi hai un senso anche di rivalsa. Sono felice che comunque la maggior parte di voi riconosce queste cose e le capisce. Questo per spiegare meglio lo stato d'animo mio di alcuni video, per esempio quello di ieri. Venendo alla seconda parte, prima di arrivare alle pagelle, sono cose importantissime queste, quindi sono prioritarie rispetto ai voti che adesso andrò a dare per la partita di ieri. Altra cosa importante, numero due. Inzaghi quest'anno ha dato molto come gioco e come coralità, ha sopperito così al depotenziamento palese della rosa, perché un'altra cosa che ci dimentichiamo è questa, che noi siamo partiti quest'anno con quasi l'intero pubblico nera azzurro, almeno fuori da questo canale, è quasi intero. In questo canale la situazione era molto migliore e queste cose me le ricordo, ce le ricordiamo tutti. Siamo partiti con, oddio, è tutto smantellato, lotteremo per il quarto posto, falliremo tutte le cose, faremo un passo indietro, eccetera, eccetera. E grazie anche a Inzaghi, se siamo qua, se lottiamo, se soffriamo perché abbiamo l'aspettativa di voler vincere e nonostante siamo così depotenziati, è grazie a lui che siamo comunque lì, no? È grazie a quello che ha dato, grazie a come ha assemblato questa rosa, come l'ha fatta performare comunque in tante partite, vincendo, facendo bene e andando avanti nelle varie coppe. Abbiamo vinto la Supercoppa Italiana contro la Juve, abbiamo ottenuto la finale di Coppa Italia che è da giocare, siamo arrivati agli ottavi di Champions dopo un anno dove eravamo arrivati l'anno scorso con una rosa pazzesca, quarti nel girone, facendo ottime partite tra l'altro contro il Liverpool, quindi con anche quasi un sogno, un accarezzamento di lottare, di lottarsela comunque. Abbiamo comunque la lotta in campionato che è apertissima, chiaramente il Milan è favorito, è palesemente favorito, però insomma siamo in lotta e l'obiettivo, secondo me, massimo per questo Inter era questo, era lottare per il campionato, non vincere, non dovevi vincerlo per forza con questa roccia, ma dovevi lottare e quello lo stiamo facendo. E tutti gli altri obiettivi sono raggiuntissimi. Quindi chi parla di fallimento, che sia fuori dall'Inter, chi se ne frega in realtà, che parlino, ma quelli che nell'Inter, i tifosi dell'Inter, che secondo me sono tifosi veramente di bassa fascia, ma questi tifosi o altri canali, che parlano di fallimento, sono semplicemente fuori di testa, per non dire altro. Sono semplicemente in mala fede, mistificano in realtà sostanzialmente. Essere dietro, attenzione, però capisco la frustrazione, infatti essere dietro al Milan e vedere questo Milan davanti dà fastidio, da matti, da matti, anche a me, anche a me tantissimo, ed è anche un motivo per cui, tornando all'inizio di questo video, dicevo che c'è la frustrazione, vediamo le partite dell'Inter un po' con l'incazzamento, soprattutto se gioca dopo il Milan, chi che vince, quindi siamo molto più insofferenti a qualsiasi sbavatura di qualche giocatore o del mister, no? E questa cosa ci sta, è comprensibile, è la frustrazione, il fastidio da matti, il rogicamento, però occorre, occorre quando si danno le valutazioni finali, scindere le pulsioni contingenti a una situazione, come quella di adesso del Milan, le partite perse un po' così, dalle conclusioni, le valutazioni finali sul gruppo, sul giocatore, sul tecnico, sull'annata, sul progetto, bisogna scindere queste due cose, qualcuno, per esempio, non in questo canale molti per fortuna, qualcuno dice che certe partite non le avremmo perse, non le avremmo perse con altri tecnici più bravi, magari quando sono sotto pressione a gestire le pressioni, vero, vero, certe partite non le avremmo perse, forse con alcuni altri tecnici, perché in effetti in Zaghi un po' certe scelte sotto pressione sembra un po' subirle, in effetti per l'ambiente, forse, vabbè, è giovane, può crescere, però certi errori li fa, io infatti li rimarco, non è che, secondo me sta simpatico, e dico anche per in Zaghi, allora mi tiro indietro, anzi, no, critico anche in maniera bella tosta. Però attenzione, se è vero questo, è altrettanto vero che questi altri tecnici, più bravi, sotto pressione, con più mentalità, quello che volete, magari non saremmo arrivati a quelle partite, sotto pressione, lottando per questi traguardi. Attenzione, pensateci, con questa rosa, oppure non avrebbero accettato la sfida con questa rosa, e infatti non l'hanno fatto, sono fuggiti, con la paura di una rosa inferiore e di non poter replicare i successi, mi sono scappati, vili, viliacchi, ok? Quindi le vedove di questi personaggi qua mi fanno pietà. Io sto tutta la vita con in Zaghi, anche se lo critico a volte, anche se sono veramente cattivissimo, severissimo in certe situazioni, ma non sono severo perché ce l'ho contro in Zaghi, e sono dalla parte di qualcun altro. Attenzione, attenzione. Concludendo, arrivando alle pagelle, non è in discussione per quanto mi riguarda il tecnico, il progetto, e ha senso massimo dare continuità invece a questo progetto, magari completando la rosa in alcuni reparti che sono palesemente corti, e quindi siamo un po' in difficoltà. Quest'anno abbiamo pagato un pochino certe situazioni, qualche gol che ci è mancato, qualche giocatore che non abbiamo dall'anno scorso, e qualche riserva in meno di qualità, soprattutto per il gioco che esprime questa Inter, che è un gioco molto più corale rispetto all'anno scorso. Fine della prima parte del video. Importantissima, quindi spero che lasciate like a profusione, commentate, facciamo girare questo video, perché secondo me è fondamentale questa prima parte, per fare un po' di chiarezza. Poi, detto questo, le critiche io continuo a farle, proprio perché non vado a simpatie. Io le simpatie le ho sui giocatori, sui tecnici, come ho un po' delle antipatie, tra virgolette, no? Cioè, antipatie, diciamo, preferenze. Questo è lecito, è normale, ragazzi, è solo una cosa soggettiva. L'importante è non farsi condizionare dalle preferenze, variando le valutazioni. Quindi io ho grande preferenza, grande stima per Inzaghi, eppure, eppure se credo che una cosa sia sbagliata, vado giù pesante. La stessa cosa vale al contrario. Posso avere una non preferenza per un giocatore o per un tecnico, ma se fa delle cose giuste, lo riconosco. E queste pagelle sono la prova, adesso per quello anche che dirò, su alcuni singoli magari. Andanovic, sei e mezzo. Ottimo il rientro, attento nelle uscite, e sul gol, in realtà, sfodera una grandissima parata nella punizione, che l'avevo vista dentro. Grande parata, purtroppo la difesa non è stata super attenta, però, insomma, Andanovic ha fatto il suo. Skriniar, sei. Della difesa quello che mi è piaciuto o meno? Così iniziamo subito, mettendo le cose in chiaro. Skriniar sapete quanto lo ammiri, quanto lo adori, per me è capitano assoluto. Sei. Dicevo, trascinatore, motivatore assoluto della squadra, bene a destra, dove mura gli attacchi avversari, e si porta in avanti, spinge, si inserisce, eccetera. Mentre poi a sinistra è stato un po' più incerto, ha commesso un fallo di troppo, a caso, insomma così. Però, anche a destra, per esempio, sul gol, sull'intervento che poi porta alla punizione, era in ritardo. Ha fatto un intervento off, in ritardo, concedendo una punizione dal limite molto pericolosa, da cui poi, appunto, è nato il gol. Però, attenzione, anche lui non riposa veramente mai. Spero che questa un po' fatica, in alcuni interventi, non sia l'accenno di un appannamento, che comunque sarebbe legittimo e prevedibile. De Vrij, sei e mezzo, ottima la partita di copertura di De Vrij, sono le sue partite queste, non avevo dubbi, sulla sua resa di ieri, infatti, l'ho spiegato anche questo, nel pre-partita, partita giusta per De Vrij, attento e ordinato, infatti. Di Marco, sei e mezzo anche per lui, senza le punte pesanti avversarie da marcare, lui è più a suo agio, palesemente, perché non è un vero e proprio difensore, è un po' un adattato che può farlo, ma se ci sono delle partite di un certo tipo, bene, altre può andare in difficoltà, come abbiamo visto la scorsa, no? Però, utilissimo, perché nell'impostazione mancava Cialanoglu, e anche e soprattutto nei calci, nei calci piazzati, mancando la cialda croccante, chiaramente era lui incaricato, infatti poi è arrivato anche un gol su pali inattiva, cioè erano importantissime ieri. Darmian, sei, alterna buoni interventi con dei lisci, dei vuoti pesanti, dove si è fatto proprio saltare in tronco. Nel complesso ha retto bene la partita, e dà un po' di riposo a Dunfrid, che non è male, perché la gestione fisica è purtroppo un po' deficitaria, ma non adesso, cioè adesso stiamo pagando, come anche a febbraio, per esempio, lo sforzo fisico appannamento, abbiamo pagato la poca gestione, che arrivava dal momento in cui vincevamo 2-0 in soltezza, con controllo assoluto, e là si poteva fare già gestione fisica, in visione del lungo termine. Tutte cose che spiego, che dico col seno del prima, non del poi, però poi le ritroviamo dopo, e dopo è tardi. Però, torniamo alle pagelle. Barella, 7-0. 7-0, partita, mi è piaciuta, di grande sacrificio, sia nel fare filtro, che nel proporsi in avanti, è stato servito di meno di quanto meritasse. Barella ieri, a me è piaciuto, l'ho visto, perché poi, lo so che è più difficile fare l'analisi, di un certo tipo, e vedere i giocatori quando non hanno la palla, i momenti dove sono da altra parte del campo, e tutto, ma, io ho questa visione qua, un po' da tecnico, non a caso, quello è quello che ho fatto, quindi, sostanzialmente, mi è piaciuto veramente molto, esce stremato, e colpito duro da una botta, ieri, nel post partita, mi sono lasciato un po' trasportare solo dall'aspetto fisico, della stanchezza, gli ultimi dieci minuti, però in realtà lui è uscito per una botta, è giusto, chiarirlo, spero che stia bene per la prossima partita, perché chiaramente è un giocatore importante in questo momento. Brozovic, 7-0, veramente tanto mi è piaciuto, tanto, magari poco appariscente, ma veramente uno dei migliori in campo, ragazzi, sottovalutata la partita ieri di Brozovic, si è mosso molto, ha cercato spesso di vincolarsi dal pressing, e ce l'ha fatta, si abbassava, si spostava, mancava Ciala, quindi era anche più in difficoltà, e lui comunque è riuscito a non sbagliare un passaggio, a fare una interdizione incredibile, ha recuperato una quantità di palloni smisurata, smisurata, quindi io lo premio da matti, lo premio veramente tantissimo Brozovic per la partita di ieri, ripeto un po', magari poco appariscente, ma vi assicuro di grande rilievo. Gagliardini, sei, partita a ritmi medio-bassi, in generale, della squadra, che si è incanalata anche subito bene, grazie ai due gol, eccetera, questa cosa ha consentito di giocare un po' più tranquilli, e un po' più corti, accorciando poi i reparti, poi difendendola, questa cosa ha dato la possibilità a Gagliardini di fare il suo solito compitino, e non di andare in difficoltà, lui fa difficoltà in campo aperto, con ritmi alti e con tanta copertura da fare, di campo, quando invece la squadra è un po' più corta, la partita si incanala bene, eccetera, lui ha fatto il suo, adesso, Gagliardini sappiamo che è giocatore limitato, eccetera, però ieri il 6, merita, cioè il compitino lui l'ha fatto, il compitino utile, non compitino in senso spregiativo, il suo compitino quello che doveva fare l'ha fatto. Perisic, 7 più, grande partita, adesso spiego il 7 più, perché se no qualcuno, adesso Perisic sta diventando un buon mito, e quindi c'è quella cosa, come succedeva con Barella prima, che bisognava dare 8 a tutte le partite, spieghiamolo, in maniera seria, ha segnato un gol decisivo, per togliere soprattutto pressione all'Inter, dato che l'Inter non produceva molto, poi non ha prodotto molto, ha sbagliato tanto, quindi gol fondamentale, tra l'altro calcio inattivo, l'Inter non producendo molto, le palline attive le ha sfruttate molto bene, Primo tempo incredibile, da parte di Perisic, incredibile, incredibile, io sono quasi sorpreso, da quanto tenga sto giocatore, di una stagione, primo tempo incredibile, di una stagione memorabile, una delle migliori della sua carriera, secondo me, sicuramente è Superman, Perisic è Superman, non è Dio, è Superman, ma non è Dio, infatti nel secondo tempo, è calato vistosamente, non tanto atleticamente, perché regge in una maniera, sto giocatore che è incredibile, però nella lucidità, nella lucidità, nelle scelte, chiaramente essendo un po' più affaticato, nel secondo tempo, ha sbagliato almeno 2-3 scelte, 2-3 ripartenze, dando il massimo nella corsa e tutto, ma ha sbagliato le scelte, quindi, non posso dargli 8, non ha fatto tutto perfetto, secondo tempo è calato, non è colpa sua, attenzione, c'è un giocatore che, cioè, è incredibile, è una tenuta fisica, sta soffrendo, sta sacrificando, in una maniera incredibile, impressionante, però, però comunque nel secondo tempo, non ha fatto benissimo, ecco, nonostante, si sia impegnato da Dio, e lì non è colpa sua, ripeto, ma questa è la prestazione, cioè, ottima, ma no, non perfetta, ottima, 7-2 eh, voglio dire, Martinez, andiamo al voto a Lautaro, che è un 5-2, sbaglia scelte, sbaglia passaggi, si lascia cadere troppo spesso, no, che non sono falli, quindi perde la palla, causa di partenza per l'Udinese, sbaglia pure il rigore, tra l'altro ragazzi, sono stanco di ripeterlo, ma non è un rigorista, mancava, c'era Perisic, Perisic sa battere i rigori, c'erano anche altri giocatori, Barella li batteva al Cagliari, i rigori, Di Marco è un rigorista, qualcuno si ricorda perché ha sbagliato contro il Verona, ragazzi, sono eccezioni, è un'eccezione che conferma la regola, la regola è che Di Marco è un buon rigorista, non è che perché ha sbagliato qui il rigore, adesso non batte più, Lautaro ne sbaglia, 715 di rigori su 716, non 715 su 100 miliardi, 715 su 716, le sbaglia Lautaro, sto esagerando, però capiamoci, diciamo che ecco la prestazione di Lautaro Martinez, poi ha fatto il gol, e quindi dici, ah ha fatto il gol vittoria, tendiamo un velo, diciamo che la prestazione di Lautaro, si fanno prima, ecco a contare le giocate utili, che non quelle sbagliate, e il numero delle giocate utili di Lautaro ieri, sono due, Dzeko, 515, ancora cotto, troppo impacciato, in difficoltà, tra l'altro contro i rocciosi centrali, avversari dell'Udinese, nel prepartita anche questo, me lo aspettavo, l'ho detto in maniera molto precisa, e per quello consigliavo di non schierarlo titolare, perché è una partita un po' complicata per lui, per il suo stato di forma, e anche per il tipo di partita contro gli avversari, che aveva in difesa, però attenzione, ha il merito di conquistare il rigore, e non è il primo della stagione, che conquista, di rigore decisivo, importante, ripeto che Dzeko, bisogna solo fargli una statua, per la stagione che sta facendo, un campione, rimane un campione, quando conta, quando c'è il momento di bisogno di veramente contare, e lui l'ha fatto in questa stagione, in più riprese, nonostante sia cotto, non stia facendo grandi performance, però nel momento, nell'episodio, il campione, l'esperienza si vede, quindi fa la differenza, ripeto, per me, solo una grande statua, per questo giocatore, per la sua professionalità, per quanto sta dando, nonostante 37 anni, senza riposo, veramente sta facendo una grande performance, penso sia a 17 gol, perdonatemi se sbaglio, in stagione, 17 gol, e 12, 13 assist, con vari rigori conquistati, e senza batterne nessuno, attenzione, perché qualcuno fa il confronto con Lukaku, Lukaku era rigorista, e ha fatto 5, 6, 7 gol, non so, di rigore, 8, non mi ricordo, quindi se consideriamo, se togliamo i rigori, e vediamo i gol puri, e gli assist, Dzeko, sta rimpiazzando Lukaku, chiaro, perdi qualcosa, ovvio che perdi qualcosa, anche perché Dzeko non può farti, tutte le partite di Lukaku continuamente, e quindi poi perde un po' sul lungo, ma devo dire che a zero, Dzeko sta rendendo, cioè più di così non si poteva chiedergli, ecco, questo, quello è il senso, poi non sto dicendo che Lukaku, Dzeko stia, stia dando di più di Lukaku, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe, però, statua, Vidal, 5+, disordinato, in ritardo, poco lucido, in mezzo al campo, e nelle scelte, nei movimenti, e tutto, non di grande utilità, e due volte, tra l'altro, ha suggerito ai compagni, due passaggi folli, veramente masochistici, una volta, di Correa, che ha sbagliato, chiaramente, gli errori sono di chi gli fa i passaggi, quindi, errore di Correa, e errore di Barella, però, Vidal, certo che anche lui va a imboccare, a chiedere, e suggerire i passaggi folli, c'è anche il fuorigioco lì, errore di Correa, attenzione, palesemente, errore di scelte di Correa, però, Vidal, cazzo, sei in fuorigioco di 16 metri, non te ne accorgi, e tiri dritto, e vai avanti dritto, neanche fai l'accendo un po' di fermarti, di rallentare, cioè sei proprio, vuol dire che con la testa non ci sei, cioè chiami in errore i compagni, poi ripeto, l'errore è del compagno Barella, e Correa che hanno fatto due passaggi folli a Vidal, dicevo Correa 5 più, mi dispiace un sacco, lui entra in campo, da quello che mancava, una squadra senza spunti, davanti, e che si era anche molto abbassata, difesa un po' del tuo a zero, eccetera, cosa dà? Dà gambe, gambe, ripartenze veloci, che sfruttano il campo aperto, quindi decisiva a livello tattico, queste scelte qua, queste caratteristiche, e bisognava metterlo magari prima, ma vabbè, peccato per l'errore, troppo altruista, troppo altruista, doveva tirare, doveva anche valutare la posizione di Vidal, quindi l'errore condiziona tantissimo il risultato, il voto, scusate, perché altrimenti lui avrebbe dato le cose che servivano, e forse, di quelli in campo, delle punte ieri, se non fosse stato per quell'errore, che condiziona in maniera netta, è quello che ha dato di più, paradossalmente, considerando un po' il contesto e tutto, ha dato quelle caratteristiche che erano veramente fondamentali, per il tipo di partita, continuo a dire comunque, che mettere due seconde punte assieme, cioè Sanchez e Correa insieme, è semplicemente insensato, chi è il finalizzatore, chi è l'uomo d'area, poi ci credo che sbagliano le scelte, e fanno cose che vabbè, sono fumosi, manca, quindi, cosa già detto, Sanchez, sei meno, la miglior performance degli ultimi tempi di Sanchez, mi è piaciuto ieri, gioca meno per se stesso, e più per la squadra, perde meno palloni del solito, anche se, uno di, non è persi zero, purtroppo, e uno di questi è criminale, è veramente terrificante, dà una ripartenza enorme all'udinese, e sono cose che veramente ti fanno solo imprecare, quindi anche ieri Sanchez, la sua cazzata epocale, una, due le ha combinate, per quello che sei meno, altrimenti non mi sarebbe dispiaciuto come approccio, però non può perdere sempre palloni sanguinosi, costringere la squadra a fare 50 metri indietro, per le sue svarionate, questa cosa è infastidente, Inzaghi, sei meno, per Inzaghi, porta a casa tre punti fondamentali, chiaramente, contro una grande Udinese, ragazzi, ieri Udinese, tanta roba, mi è piaciuta, a parte ieri, ma in tutte le ultime giornate, Udinese sta facendo molto bene, mi piace come gioca il modulo, come gli interpreti, mi piace veramente molto, fortuna che non avevano la punta di piazza davanti, questa cosa ci ha un po' aiutati, perché l'Inter non ha fatto benissimo, bene la scelta di Di Marco, data l'assenza di Celanoglu, tra l'altro, quindi giusta la scelta, buona anche la scelta di Gagliardini, per il tipo di partita che abbiamo avuto, e che poi si è anche verificata, rispetto, diciamo, rispetto alla fatica che aveva avuto l'Inter, nel creare gioco, nel fare azioni, nel finalizzare, la partita si è semplificata moltissimo, oltre a quello che in realtà abbiamo dimostrato sul campo, andando sul 2-0 all'intervallo, diciamo che, ecco, dato il secondo tempo, che si prevedeva, di chiusura, di protezione, e di ripartenza, si potevano fare dei cambi tattici, prima, di quanto si è fatto, per adattarsi al tipo di partita che era appunto cambiata, e chiuderla, quindi Correa, per esempio, andava messo prima, come si poteva mettere magari anche Gosens, sapendo che Perisic aveva dato tantissimo primo tempo, però poi sarebbe calato, ed è calato, invece si è temporeggiato con questi cambi tattici, nella lettura, poi il secondo tempo, si è preso un gol, poi si sono sprecati i cambi alla rinfusa dopo, tra l'altro nella seconda parte del settantesimo in poi, chiedendo a qualcuno, che è dovuto rimanere in campo, sforzi inenarrabili e gravosissimi, mettere entrambe le due punte in campo, si poteva evitare, si poteva cambiare all'inizio una, almeno una alla volta, senza buttarne fuori tutte, sprecare due cambi lì, si poteva avere un cambio in più, quindi no, per il centrocampo, per la difesa, o per un esterno, appunto Perisic, che è cotto alla fine, cioè, si poteva gestire un po' meglio la cosa, e anche forse la formazione dall'inizio, Dzeko poi è stato fondamentale a livello di carisma, perché ha ottenuto il rigore, ok, ma lì è un episodio, non è in questione tattica, lì è proprio in questione del grande giocatore, il campione, che ha fatto, che si è conquistato l'episodio, però l'Inter non ha giocato benissimo, abbiamo, mancava Cialanoglu, e questo è giusto dirlo, e quindi qua l'abbiamo pagata, ha fatto bene a mettere Di Marco, però, un Correa, o forse anche un Sanchez, ma dall'inizio, qualcuno che legasse i reparti, dato che mancava Cialanoglu, era importante metterlo, magari così, non avremmo avuto il rigore di Dzeko, perché magari Dzeko mancava, che era messo in difficoltà, tatticamente come ho spiegato prima, per i difensori, magari non avremmo avuto il rigore di Dzeko, però avremmo fatto più azioni, più gioco, avremmo avuto più gol, da azioni giocate, avremmo subito anche meno, avremmo avuto un po' più in controllo la partita, avremmo gestito meglio le energie, quindi capito, poi non c'è il controfattuale, ma facendo un po' di analisi, giungo a questa conclusione, quindi bene in zaghi, ma non benissimo, è che si poteva far meglio, poi chiaramente la mia incazzatura ieri post partita, ripeto, deriva anche dal fatto della frustrazione, un po' di vedere questo Milan, è chiaro che anche quello, ma la maggior parte di voi l'ha capito, e vive le stesse emozioni, quindi siamo sulla stessa barca, ragazzi vi saluto, vi rimando a stasera, spero di vedervi in tanti live, e che gli abbonati sub possano, vogliono partecipare, lascerò il link della stanza di StreamYard, direttamente sul mio gruppo Telegram, quello dei sub, quello a cui accedono i sub, quindi chi non è ancora dentro, che ha fatto l'abbonamento, qua su YouTube, vada sulla scheda community che trova il link, e ci vediamo stasera, così ne parliamo, parliamo di tutto quello volete, Milan, Inter, partita di ieri, situazione, progetto, stagione, parliamo un po' assieme, ragazzi vi saluto, grazie della compagnia e dell'attenzione, video molto lungo oggi, ma mi sembrava molto importante, dire certe cose, fare un video, un po' di analisi, e di sintesi generale, in questo momento delicato, mi sembrava opportuno, e prezioso farlo, vi ringrazio ragazzi, grazie a tutti, e buona giornata, Forza Inter!